Iarra Mendy Se hai un solo centro avanti Sarebbe stato il modo perfetto per farsi perdonare Poi non si capisce di che cosa dal Bernabé Un gran destro di Benzema contro la traversa Io ho qualche dubbio su questo contatto Perché il giocatore non può pressare l'avversario Che sta per ricevere la parte Benzema si gira Traversa di Benzema Ma poi ci prova a che dire C'è da dire che non è neanche per nulla fortunato questo ragazzo Saranno fortunati Dovano giocare da prima Se hai un solo centro avanti Come fai non farlo giocare? Sarebbe stato il modo perfetto per farsi perdonare Poi non si capisce di che cosa dal Bernabé Un gran destro di Benzema contro la traversa Io ho qualche dubbio su questo contatto Ce l'ho E' un solo centro avanti Per farsi perdonare